Salve a tutti, sono contento di poter portare questo saluto a un'iniziativa importante che anima ancora una riflessione sul futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Veniamo da mesi difficilissimi e ancora oggi siamo in una fase delicata in cui pure con la campagna di vaccinazione vediamo primi passi avanti molto importanti. Ora la sfida dei prossimi mesi sarà riformare il Servizio Sanitario Nazionale e provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid. Io penso che la prima lezione fondamentale sarà proprio quella di rafforzare la sanità sul nostro territorio, di rafforzare l'idea di una prossimità tra le nostre strutture, i nostri presidi e le esigenze delle persone. Io penso che la parola prossimità dovrà essere proprio la parola chiave con cui ricostruire il futuro del Servizio Sanitario Nazionale e dentro questo ambito noi abbiamo scelto di investire prima di tutto proprio sull'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare deve essere la chiave fondamentale, deve essere l'orizzonte dentro cui ci muoviamo, l'idea della casa come primo luogo di cura e la commissione preseduta da Monsignor Paglia ha proprio questo obiettivo tra i tanti di cui dispone e noi abbiamo nel PNRR provato a fare una cosa che non si era mai vista nel nostro paese, un investimento di ben 4 miliardi costruito esattamente in questa direzione. Oggi l'Italia è uno dei paesi al mondo con la popolazione più anziana ma è al tempo stesso per paradosso uno dei paesi che ha il più basso tasso di investimento sull'assistenza domiciliare alle persone sotto i 65 anni. La media Ocse è al 6% e noi solo all'inizio del 2020 eravamo al 4%. Poi abbiamo investito nel decreto rilancio e questo ci ha consentito di salire sopra la media dei paesi Ocse e ora l'obiettivo è molto chiaro, vogliamo diventare il primo paese d'Europa per assistenza domiciliare. Oggi i migliori esempi ci sono in Germania e in Svezia con circa il 9%, noi vogliamo superare il 10% e io penso che questo dobbiamo farlo con un grande investimento pubblico e anche con una capacità di costruire relazioni con tutti i mondi, con tutte le persone, le donne e gli uomini che a ogni livello si impegnano in questa direzione. E allora io mi aspetto che anche la discussione che voi oggi farete ci aiuti esattamente a provare a realizzare gli obiettivi a cui stiamo lavorando e sono convinto che dentro quest'ottica tutti insieme sapremo costruire una pagina migliore per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie e buon lavoro a tutti.